Dovremmo forse guardare al domani, visto quello che sta accadendo non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Guardare al domani per me significa lavorare con ancora più energie verso l'unità. Faccio un esempio molto concreto, le due liste che hanno sostenuto Lucio Rivotos hanno deciso di fondersi in un unico gruppo consigliare che ha un nome anche suggestivo, insieme per Belluno Bene Comune. Lavoreremo un progetto, cominceremo appena passato il periodo delle ferie estive ed è un progetto di grande inclusione al quale già molti del PD credono.